Ma in questi giorni ha festeggiato Gianrico Tedeschi, cent'anni, e mi è stato chiesto un pensiero di Gianrico. Bene, io quello che dirò non so se è sacrilego. Io penso che Gianrico avesse una bravura eccezionale, naturale, inconsapevole. Non aveva nessuna passione e voglia di lavorare sul suo talento, di cercare, di esprimere cose diverse da quelle che venivano fuori quando lui entrava in una battuta. Non voglio dire che non ci pensava perché era un uomo anche intelligente, ma aveva una specie di spontaneità. Quando io lavoravo a fondo con lui su certe cose, lui mi diceva, ma così il Bordeaux avrà più soldi, si incasserà di più. E devo dire che mi innervosiva. Poi ci siamo capiti, amati, lui mi ha fatto amare, per esempio, Goldoni. Abbiamo fatto Sir Todero Brontolon. A me non piaceva Goldoni, mi sembrava una specie di, cioè preferivo Molière. E invece Sir Todero fu una cosa straordinaria. Poi quando non lo fece più lui la fece con Erospagni. E fu una gioia perché lo fece un po' moglieriano, per dire la verità. Ecco, e poi ho fatto il milanese con lui. Abbiamo fatto tante cose con Gianrico. Anzi, per dire la verità, Gianrico è venuto facendo riformatore del mondo, di Bernard, perché il tema, e tutto è Marianella Laszlo, la donna che, sua moglie, la mamma di sua figlia, e l'ultima figlia, che ha voluto che lui, alla fine della sua vita, con questo talento straordinario, lavorasse a delle cose un pochino diverse, più faticose, che si sforzasse. E lei mediava tantissimo, per cui Bernard lui lo fece in modo straordinario. Però con grande fatica all'inizio, so che non è stato facile. E anche con me non è stato facile. E però aveva questa voce, questa naturalezza spontanea. Mentre, per dire, una grande attore, che in quel momento, mentre lui faceva il riformatore, io facevo con Piero Mazzarella, grande attore milanese, del teatro milanese dialettale, facevo Relire. Allora uno dice, ma come? Relire, fatto con Mazzarella, e invece Gianrico, che poteva essere assolutamente dentro Shakespeare, come un pesciolino nell'acqua, faceva Bernard un materiale... Questa è un po' la caratteristica del divertimento del teatro francoparenti. Cioè prendere un'attrice sexy e fargli fare, Anna Galliena, una cosa comica, prendere un attore dialettale e di anche grande capacità comica e fargli fare i Relire. E fu la pazzia di Relire, fu una cosa, vabbè, con certe sere da brividi. Anzi, io dovrei dedicare a Piero tante parole. Gliel'ho detto quando la barra, sulla barra, gli ho reddissi molte... Questo è un capitolo a parte molto, molto intenso. E comunque questa capacità, questa volontà di far provare delle cose diverse, come io mi mettevo in gioco con il triplo salto mortale ogni volta, così mi piaceva che si mettessero in gioco anche le persone che lavoravano con noi. Allora Gianrico aveva questa straordinaria, naturale facilità e una forma di pudore forse, di timidezza, per non affrontare così, di non mettersi a discutere di come fare una parte. Chiuderò con questo esempio straordinario. Patrice Chereau, il grande regista di teatro, di cinema, che è stato il mio primo, io sono stata la sua prima assistente, con Joachim Murietta al piccolo teatro. Quando ho fatto Lulu con Valentina Cortese e tutti i grandi attori in quel momento lì, c'era Santuccio e c'era Ricci. Ricci faceva un vecchio specie di firs, un vecchio cameriere nella Lulu di Vedeckin. E dopo una lunga spiegazione che Patrice gli fece per come doveva fare quella traversata che traversava in proscenio, lui disse ho capito Patrice, una pausa. Anzi forse ha detto un fiato. Ecco, così era Gianrico. Un regista che spiega, dei grandi attori dicono ho capito, appoggio. Anzi Franco diceva faccio due i, allungava le vocali. Vai i, sei arrabbiato, vai i, invece che vai, vai i. Ecco, finiamo sulle doppie vocali.